Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Altair e oggi vi porto il tutorial su come costruire l'eteroscopio Allora ci tengo a precisare che per avviare lo step dell'eteroscopio dovete avere attivato la corrente Dirigervi poi verso una di queste fenditure Dopodiché dovete sapere che i vari pezzi dell'eteroscopio avranno uno spawn fisso Ovviamente ciò vuol dire che dipenderà anche un'altra cosa da questo spawn fisso Il primo pezzo che dovete trovare dipende un po' da come avete costruito il pack a punch In questo caso io ce l'avevo qui perché il primo pezzo che ho recuperato del pack a punch Lo dovevo recuperare dove c'era la zona qua davanti, il muso dell'aereo Poi il secondo pezzo invece si troverà qui dove c'è l'ala dell'aereo sopra il motore Poi il terzo si troverà verso questa zona qua dove c'è il pack a punch E poi come segno di conferma che avete recuperato tutti ma tutti e tre i pezzi Vi rimanderà nel mondo normale Ovviamente poi cercate di eliminare i cani e una volta che avete fatto tutto ciò Vi recate verso questo banco sotto il pack a punch Costruite l'eteroscopio e una volta che l'avete costruito La fenditura si sposterà verso questa zona Ovviamente io ho provato a salire di qua ma non si può salire Quindi dovete salire solo dalle scale e interagire con questa fenditura Dopodiché la fenditura vi rimanderà nel mondo etere E quando sarete nel mondo etere dovete poi dirigervi verso questa stanza qui a destra Prendere il libro perché vi servirà per poi lasciarlo alle varie anomalie che troverete in giro Una è qui Poi la seconda la troverete nella zona dove attivate le sfide Che sarebbe questa zona qua Ovviamente ci tengo a sottolineare che ogni volta che interagite con le varie anomalie I zombie non vi daranno fastidio E soprattutto fate attenzione che vi spawnerà un mini boss Quindi occhio a come vi muovete perché è molto fastidioso quel mini boss Poi la terza anomalia si troverà verso questa zona qui dove c'è il potenziamento della corazza Poi l'ultima anomalia, la quarta, si troverà dove avete costruito l'eteroscopio Dopodiché quando avrete parlato con tutte le varie anomalie o comunque interagito Come segno di conferma che avete fatto lo step bene Vi rimanderà nel mondo normale E questo step qua è utile perché servirà per inserire la password nel computer Che precedentemente richiedeva Questa password servirà perché per continuare con il processo dell'easter egg E la dovrete inserire in questo computer Dopodiché quando avrete inserito la password Cosa succederà? Nella mappa spawneranno due nuove fenditure Queste due nuove fenditure serviranno per fare i vari potenziamenti della Wunder Weapon Che sono il potenziamento del fuoco e uno folgorante Ovviamente poi farò un video tutorial su come fare questi due potenziamenti Vi ricordo che già attualmente c'è il video di come costruire la Wunder Weapon E i due potenziamenti principali Che sono i più facili Che sono il liquido rifrigerante e il Nova 5 Che servono poi più avanti anche per continuare con gli easter egg Quindi niente ragazzi Il video del telescopio finisce qui Noi ci becchiamo poi in un prossimo video E niente ragazzi Se vi è piaciuto il video mettete un pollicione in su Seguitemi nei vari social Iscrivetevi anche al canale E seguitemi su Twitch E ci becchiamo in un prossimo video Bella ragazzi E ci becchiamo in un prossimo video 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 E ci becchiamo in un prossimo video